al colonnello dei carabinieri l'imprenditore sorrisse seccamente non credo che posso essere l'inizio di un cambiamento in questa regione funestata dalla mafia io sono venuto dal nord ho portato i mezzi e i macchinari per terminare l'autostrada disse l'imprenditore non ho ubbidito e mi ha scoppiato i mezzi e i macchinari me ne ritorno al nord e continuo a fare il costruttore lì qui ho fallito commento lo stesso discorso dell'imprenditore vale per l'amore in ogni momento della nostra vita manifestiamo il sentire d'amore che abbiamo raggiunto niente di più e niente di meno per questo il fallimento non esiste esiste solo l'esperienza del fallimento